uno qua e uno la e uno la ma sei sicuro? sei sicuro? ma cosa stai facendo che piscia tutto? benzina benzina dove te l'ha ribalto? puoi tirarlo su e lo tiriamo giù di qua a metà come? 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 ahahah 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 ma questa qui sta bene ma sera ma sera non querei mi pareci devi pensare che devi iniziare in moto che via la piazza c'era una piantina ti faceva il giro che facciamo il giro ahahah 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 oh L'hai preso? Come? Come è Sergio? Come è Sergio? Come è Sergio? Ah! Fermo! 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 Aspetta! Diggli aspettare a Ciccio che ne scesse la catena! Si è agrovigliata Zoppi! Aspetta! Ehi! Gli ho detto a Roma! E attento! Aspetta! Aspetta! Aspetta eh! Non va che sei incassato nel pignone eh! Si che incassarà? No! Ah! Meno mare figa! Meno mare! Meno mare! Tu alza! Tu alza! Aspetta che ci sarà ancora una marcia! Trova! E intanto ci ha attivato la frizione! Alziamo! C'è! Io alzo! E' qua il bastardo eh! E' proprio sotto la camere! Andiamo! Wow! Ciao! Che stai facendo? Ho salvato la moto! Dai la moto non c'è niente! Dai! Su! Ho salvato con la gamba! La prossima volta mi butto sotto io la moto! Che c**o! Sì, è giusto, è giusto vada via il culo Grazie a tutti e c'è paura della moto non gli dai ma proprio zero non è non gli hai proprio dato zero infatti ho detto adesso chiude si ferma non gli ha dato niente zero no infatti ho detto si ferma e gli ha dato lo stesso gira, gira, sere, gira gira, gira ti ho detto gira subito e giravi fuori e riuscire l'ho fatto uguale io e che c'è la pena no e che riuscire ti ho detto gira fuori non ho mai sentito ma come si compensa basta battezzato a poi Eccata al mondo! 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 Io sono arrivato se impiccato perché gli ho dato sotto ma se fai così Non vale che l'ha lanciata lui! Bravo! Ero dietro a te! Stavo parlando con lui Non mi devi distrarre tu! Porca miseria! Non mi devi distrarre! Certo! hai visto di chi ha la porta? certo non mi piace un cazzo di qua no no mi ribalto infatti sto filmando era solo un'idea un'idea che non mi piaceva c'ho provato ascolta lì mi sembrava troppo facile non mi piaceva